oggi vi porto con me alla scoperta di un capolavoro dell'antica roma l'ortus conclusus di villa livia rappresenta un giardino recintato e si tratta di una delle opere più belle giunte fino a noi dalla grande stagione dell'arte romana pensate che questo affresco non fu trovato a pompei stabia o ercolano ma nel territorio stesso della capitale quindi l'opera che vedremo qui era destinata ad abbellire la residenza di una famiglia che era ai vertici della società romana livia infatti era la moglie dell'imperatore augusto va quindi considerato un esempio significativo e quasi un unicum nella produzione pittorica romana arrivata fino a noi e per questo era doveroso dedicare un video a un tale capolavoro oggi l'affresco è visibile all'interno del museo nazionale romano rappresenta un giardino tema che compare spesso in altri affreschi pompeiani ma raramente assume un'importanza tale come nel caso della villa di livia qui circonda completamente lo spettatore trasformando la stanza in un giardino la scena dipinta sulle pareti può essere analizzata in tre fasce sovrapposte nella prima partendo dal basso troviamo una zona in cui sono raffigurati alcuni cespugli e alberi piantati secondo una disposizione simmetrica la seconda fascia contiene tutta la folta vegetazione ed è separata dalla prima mediante uno steccato e un muretto di colore chiaro questa è la parte più affascinante dell'affresco per la ricchezza di dettagli la terza fascia infine comprende il cielo azzurro su cui si stagliano le eleganti chiome degli alberi sia in questa fascia che nella seconda troviamo moltissimi uccelli rappresentati con brio e leggerezza questo fresco in effetti stupisce ancora oggi per la freschezza di esecuzione lo vediamo negli animali colti nei loro comportamenti tipici oppure nelle numerose gamme di verde che emergono da un tono di fondo tutto ciò per descrivere meglio le diverse piante raffigurate e creare un effetto illusionistico di profondità perché è chiaro che qui l'artista o gli artisti volevano portare la natura all'interno della stanza e che tecnica pittorica distinguiamo le pennellate che corrono veloci abili e disinvolte nel definire questo splendido giardino recintato un virtuosismo esecutivo che contribuisce a creare un'atmosfera d'incanto unica nell'arte romana antica se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando